ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo oggi andremo a vedere qualcuno o qualcosa cioè una situazione che sta per bussare alla vostra porta vi rubo solo due minuti per dirvi che sotto il video trovate i miei link di riferimento cioè i miei contatti che sono l'indirizzo di post elettronica il mio numero whatsapp dove potete contattarmi per chiedermi informazioni sui consulti privati e soprattutto dico soprattutto per lasciarmi il vostro nome data di nascita raccontarmi un sogno dove attraverso dei calcoli di numerologia attraverso dei libri che io possiedo possiamo scoprire qualche curiosità sulla vostra persona sul vostro giorno di nascita queste diciamo informazioni cioè il nome e data di nascita io le come dire io le accetto semplicemente tramite email o tramite numero whatsapp non sotto commento non mi scrivete i commenti dove mi lasciate nome e data di nascita ma semplicemente tramite email e numero di whatsapp dopo che verrete messi in elenco man mano che io farò il video che riguarda la vostra persona sul mio secondo canale dove vi invito a iscrivervi giù sotto il link troverete il video che appartiene alla vostra persona ho intenzione anche sul secondo canale di fare degli interattivi però un pochettino diversi con dei messaggi rivolti a voi allora iniziamo subito con la variante numero uno per chi ha scelto la farfalla la chiave con la farfalla e la mettiamo qui andiamo subito a vedere con questo meraviglioso mazzo di carte che tipo di situazione energia abbiamo per quanto riguarda la variante numero uno vediamo un po che cosa ci vanno a dire le carte ne prendiamo una per la variante numero uno e uno già per la variante numero due così questo mazzo di carte lo riponiamo perché è molto è molto bello molto esplicativo ma è anche molto ingombrante da gestire allora iniziamo subito o per la variante uno abbiamo l'eros abbiamo cupido abbiamo fascinazione abbiamo colpo di fulmine al di là di quello che esprime la carta cioè un colpo di fulmine a livello sentimentale che potrebbe essere anche la vostra situazione ma parliamo di un qualcosa che arriva all'improvviso un qualcosa che arriva quando meno ve lo aspettate soprattutto un qualcosa che non soltanto arriva all'improvviso come un colpo di fulmine ma suscita in voi un'emozione un'emozione molto forte un'emozione molto intensa potrebbe essere l'arrivo di una persona nella vostra vita potrebbe essere il ritorno di una persona nella vostra vita ma potrebbe essere anche una situazione che si palesa improvvisamente di cui voi non immaginavate neanche di dover diciamo o di poterne farne di poterne far parte oppure di avere a che fare con situazioni del genere adesso andiamo a vedere se si dovesse trattare di una persona che tipo di persona abbiamo oppure che tipo di di situazione dipende sempre che tipo di carta esce qua abbiamo a che fare con la musica o quantomeno con l'arte della musica questa persona potrebbe lavorare nell'ambito della musica o nell'ambito dell'arte o avere una predisposizione a suonare il piano oppure avere una predisposizione appunto per l'arte qui vedo una persona che in un primo momento si fa vedere molto impostata molto sicura di sé molto sulle sue potrebbe essere anche una persona che in apparenza vi sembra un po anche scorbutica cioè che non voglio avere a che fare con nessuno invece quello che vi posso dire è che il suo animo è molto sensibile non soltanto il suo animo è molto sensibile me lo descrive la carta con il piano ma mi descrive anche una persona che al di là della corazza che vuole far apparire al di là della corazza che fa apparire abbiamo una persona a cui piace il divertimento a cui piace sorridere e devo dire una persona molto solare però in un primo momento voi la vedete completamente diversa da quello che è invece la sua realtà vediamo un po che tipo di emozioni susciterà in voi questa persona o questa situazione che sta per bussare alla vostra porta vediamo un po che tipo di emozione suscita in voi questa persona intanto andiamo al taglio abbiamo la finice confusione nuova fase rinascita rinnovamento cambiare idea crescita trasformazione poi abbiamo confusione appunto un qualcosa che si manifesta nella vostra vita che però vi crea della confusione abbiamo un legame carmico qui è di nuovo la finice che viene fuori è una pausa di riflessione allora qui uno dei due cioè o voi o la parte con cui avrete a che fare è una una persona che ha sofferto abbastanza ha sofferto abbastanza e sta cercando di rinascere sta cercando di crescere ha cambiato idea su una situazione del suo passato cioè come se l'avesse messa da parte per poter appunto come la finisce rinascere dalle proprie genere c'è una nuova fase della vostra vita questa fase della vostra vita avviene dopo una pausa di riflessione dopo uno stop perciò la persona di cui stiamo parlando è una persona che ha avuto un suo vissuto è stata diciamo abbastanza ferita però ha avuto una pausa di riflessione ha avuto un'analisi dei propri sentimenti e poi sta rinascendo a nuova vita nel senso che si sta rimettendo in gioco e penso che lo voglia fare proprio insieme a voi vediamo un po' cosa ci dice il nostro oscio vediamo un po' cosa abbiamo nel nostro taglio abbiamo repressione e armonia vedete la repressione di quello che ha vissuto e l'armonia di quello che potrebbe andare a vivere essere ordinari partecipazione e pigrizia allora questa è una persona che è una persona diciamo ordinaria cioè nel senso che è statica è molto abitudinaria ama molto la routine ha proprio una sua routine personale fa delle cose specifiche in momenti specifici della giornata perché questo lo fa stare bene però non disdegna il fatto di poter partecipare magari a degli eventi di poter partecipare a delle situazioni e a delle situazioni nuove e ama anche devo dire l'essere pigro diciamo cioè è una persona abbastanza modesta e diciamo che può vivere appunto una vita straordinaria ma anche del tutto del tutto comune quello che mi dice sto un attimo controllando la descrizione perché come sapete questo è un mazzo nuovo e sto cercando anch'io di studiarlo man mano che lo che lo usiamo la partecipazione qui mi parla di speculazione fai della tua partecipazione il tuo stile di vita e l'intera esistenza diventerà una gioia e un'estasi senza proporzioni perciò qui deve speculare appunto una sorta di armonia mi parla di di pigrizia di pigrizia vediamo che cosa ci dice la carta della pigrizia magari è una persona a cui piace anche in certe giornate appunto non fa niente completamente non fa niente completamente però poi se magari arriva una telefonata lui scappa o lei scappa il luogo in cui stai rilassando in cui ti stai rilassando non è la tua meta finale tempo di progressione ci sono infiniti cieli che ancora aspettano di essere esplorati ecco perché vedete perché serve sempre rinfrescare la memoria e leggere attentamente perché qui abbiamo appunto la pausa che mi dicevano le carte delle emozioni la sua pausa di riflessione è diventata come una sorta di pigrizia per lui ed ecco che in questo momento ha bisogno di rinascere ecco perché si fa vedere in un certo modo però poi il suo obiettivo è quello appunto di tornare a vivere una vita molto più completa vediamo un po che cosa dicono i miei oracoli per quanto riguarda la situazione con voi vediamo un po che cosa ci vanno a dire confida negli amici fidati devi lasciare andare lontana di qua da qualcosa qualcosa ed ecco qua vedete questa persona allora innanzitutto questa persona ha avuto una delusione per quanto riguarda le amicizie e si è allontanato da queste amicizie appunto si è allontanato da una situazione che lo ha fatto soffrire si allontana da queste situazioni lascia andare tutto quello che lo ha fatto soffrire però ha sempre quella predisposizione a cercare degli amici e cercare delle situazioni che lo possano far star bene che cosa succede adesso incontrando voi o entrando nella vostra vita succede che tenta di nuovo di confidare in una novità confidare in qualcosa di bello che può essere una novità nella sua vita e che cosa succede dopo che si è allontanato e ha lasciato perdere quello che erano dei falsi amici adesso sta cercando di nuovo di ricostruire un'amicizia una conoscenza e vuol appunto vedere l'evoluzione che prenderà questa vostra conoscenza questa vostra conoscenza appunto ok vediamo un po che cosa mi dicono i miei tarocchi allora ecco qua vedete la stanchezza la stanchezza per quello che è successo la stanchezza la voglia di non far niente la voglia di lasciare andare tutto perché si è troppo stanchi di tutto quello che è venuto a galla con questi falsi amici da tutto ciò che si è dovuto allontanare però è anche vero che qua abbiamo un cambio di indirezione abbiamo qualcosa che si sta muovendo nella vita di questa persona ed ecco qua la sua indecisione la sua indecisione perché sa quello che ha vissuto ha una forte fermezza di idee però è anche propenso a vedere oltre ed ecco qui la carta del tradimento la carta del tradimento che lo ha portato purtroppo a vivere una situazione che lo ha fatto molto soffrire e questo lui non la tenderà a dimenticare però è una persona abbastanza forte abbastanza carismatica abbastanza importante questo lo porta sempre a sviluppare passioni nuove ad avere sempre interessi interessi nuovi ecco che è molto attento nel lavoro come dicevo ha avuto questa pausa di riflessione che lo ha ricaricato lo ha stancato ma lo ha ricaricato ulteriormente e qui adesso si muove lentamente muove lentamente i suoi passi in una scelta che ha bisogno di fare con ponderazione nel senso che ha bisogno di fare questa scelta però anche di vedere questa nuova conoscenza questo nuovo arrivo nella vostra vita sotto un occhio diverso in questo momento si sente un pochettino come bloccato perché non sa se presentarsi realmente per com'è oppure ancora intraprendere questa fase di disconoscimento della sua persona per indagare se voi siete una persona di cui fidarsi ed ecco qui un inizio un inizio che porterà non soltanto un equilibrio però fino a questo momento porta una indecisione per quanto riguarda la sua vita ancora è molto indeciso sta andando proprio con i piedi di piombo e andrà con i piedi di piombo perché anche se ha tutte le carte in tavola anche se vede che ci sono delle prospettive abbastanza interessanti per quanto riguarda questa conoscenza però dentro di sé c'è qualcosa che ancora non lo non lo convince perciò questa è una persona che ha sofferto arrivate nella sua vita come un fulmine al ciel sereno e di conseguenza deve capire attentamente se è se quello che se quello che vede in voi è qualcosa di di reale oppure è un qualcosa da cui si deve allontanare anche se io vedo che in questo momento lui è in una fase di studio e non vorrebbe allontanarsi da da quello che siete voi da quella che è questa nuova situazione nella sua vita bene prima variante come sempre vi aspetto nei commenti vi aspetto anche tramite i miei contatti se voleste contattarmi per informazioni sui consulti private o lasciarmi sempre solo tramite i miei contatti giù sotto il video il vostro nome e la vostra data di nascita io passo alla variante 2 eccoci con la variante 2 per chi ha scelto la chiave con il quadrifoglio vediamo la nostra energia abbiamo il cane fedeltà lealtà onestà affetto qua parliamo per la variante numero 2 possiamo parlare di tante cose adesso andremo a vedere quali sono le altre carte che si abbineranno a questa ma in linea di massima qua parliamo di amicizia di fedeltà di lealtà magari di una coppia ma non parliamo di una coppia a livello sentimentale parliamo anche di una coppia a livello lavorativo a livello familiare a livello di amicizia parliamo di onestà di affetto vediamo se questa onestà perpetrerà oppure sarà tradita però parliamo innanzitutto in questa variante di un'amicizia in qualsiasi ambito sia diciamo strutturata la situazione in cui vi ritrovate ritrovate le mie parole qua parliamo di un'amicizia di un qualcosa che vi lega a un'altra a un'altra parte vediamo chi è il nostro soggetto vediamo un po' sempre per la variante numero 2 vediamo chi è venuto fuori qua abbiamo qualcuno che diciamo vi guarda e non vi guarda abbiamo un solitario guardate qui qui abbiamo una persona abbastanza solitaria una persona abbastanza solitaria che vi è come se vi spiasse un pochino ecco vi spia in base a quello che fate in base a come vi comportate spia vedete perché questa persona non guarda proprio dritto negli occhi guarda da un'altra parte però guardando da un'altra parte anche se chi nel capo il suo sguardo è rivolto è rivolto verso di voi e penso proprio che voi neanche ve ne accorgete che questa persona vi sta controllando vi sta fissando sempre a livello amichevole perché è una persona abbastanza isolata abbastanza anche direi un pochettino negativa ecco negativa nei modi di di essere proprio suoi suoi propri eh allora innanzitutto andiamo a vedere che tipo di emozioni ha questa persona nei vostri confronti allora vediamo un po' la livello la verità viene alla luce adattamento cambiamenti trovare le risposte perciò qua viene fuori un qualcosa che voi non vi aspettate con questo personaggio è freschezza e di nuovo confusione anche il nostro amico come nella prima variante ha confusione però qua mi parla di nuovo amore qua mi parla di nuovo amore un po' di immaturità e consapevolezza qua c'è qualcuno che vi tratta come un'amica ma per non siete un'amica o un amico perché abbiamo un po' di immaturità infantilismo sentimenti acerbi ingenuità e questo parte dall'amicizia un'amicizia che nasce che però poi raggiunge una consapevolezza nel senso diciamo non parliamo di senso di colpa in questa in questa circostanza ma consapevolezza nel dire che questa non è più un'amicizia ma è un qualcosa di più ed è una verità che voi andrete appunto a scoprire variante numero due di questa persona andrete a scoprire questa verità che l'amicizia si è trasformata in qualcun altro condizionamento e proiezioni il mutamento vedete il mutamento la solitudine il divertimento allora questa persona è abbastanza combattuta è abbastanza combattuta perché il sta mutando qualcosa dentro di sé in che senso qua abbiamo la solitudine il divertimento sono due due situazioni completamente contrapposte perché o sei solitario o ami il divertimento e questa è la situazione che sta vivendo questa persona e che voi andrete a vivere insieme perché c'è un mutamento nei suoi sentimenti c'è un qualcosa che sta mutando nella situazione in cui riconoscete le mie parole c'è questa situazione questa sorta di mutamento e di consapevolezza che tutto quello che si pensava non è più come prima ma sta cambiando allora vediamo un po cosa abbiamo chiusura totale non dimenticare le cose importanti vediamo un po abbiamo di nuovo sensi di colpa esprimi le due ragioni l'amica che non è più amica ora o mai più allora qui al centro della stesa abbiamo l'amica l'amica nel senso che lui vi vede come un amica o lei vi vede come un amico però qui c'è appunto l'esprimere a livello non parlo proprio di sensi di colpa ma in questo caso è un qualcosa che voi vi tenete dentro un qualcosa o che questa persona si tiene dentro questo è il momento di esprimere le proprie ragioni cioè di buttare fuori realmente quello che si prova quello che si sente quello che si vuole esprimere con i gesti o le parole ed è giunto il momento cioè questa situazione si evolverà nel giro di breve tempo e sarà un qualcosa che vi renderà molto felice perché io penso che in cuor vostro è una piccola speranza che questa persona che voi per questa persona non siate semplicemente un'amica voi l'avete sempre coltivata ecco magari è un vostro desiderio non essere vista da questa persona come semplicemente un'amica allora vediamo un po cosa abbiamo vedete qui abbiamo una sorta di angoscia una sorta di solitudine di di vedere pensieri angoscianti di essere tristi che cambia cambia completamente ed ecco qua il nostro sapere il nostro sapere una verità che viene fuori un qualcosa di nascosto che viene che finalmente viene messo alla luce un qualcosa di che magari voi pensavate in modo negativo avevate immaginato delle cose negative su questa persona nel senso voi avevate immaginato che questa persona si comportava in un certo modo per chi sa quale motivo arcano contro di voi e invece no è tutta un'altra è tutta un'altra situazione qui abbiamo appunto la temperanza la moderazione l'equilibrio che viene fuori dopo che finalmente viene viene via questo senso di frustrazione questo senso di di dispiacere perché giustamente si pensava che questa persona per voi non provasse quello che invece magari voi già provate perché potrebbe anche essere qui abbiamo molta soddisfazione l'inizio che anche per molti di voi sarà un inizio a livello lavorativo economico perché queste parole si possono associare a qualsiasi settore vedo molta soddisfazione vedo un nuovo inizio qua c'è anche un inizio per quanto riguarda anche sia a livello lavorativo sia a livello sentimentale e questa forma di stanchezza appunto che cambia il suo modo di cioè voi dopo che venite a sapere questa verità dopo che finalmente questa persona si esprime in tutto quello che prova per voi ecco che questa forma di stanchezza si tramuta in una situazione piacevole c'è appunto in atto una forma di trasformazione o di venire a sapere che un'amicizia o un'conoscenza vuole svilupparsi in qualcosa di molto più intenso importante e soprattutto mi auguro duraturo seconda variante questa è la vostra stesa come sempre vi aspetto nei commenti fatemi sapere se vi ritrovate nelle mie parole per qualsiasi informazione potete contattarmi giù con i miei contatti che sono l'indirizzo di post elettronica il numero whatsapp io con questo vi ringrazio e vi saluto e ci vediamo al prossimo video